in che modo possiamo curare questo il bruxismo allora o ricostruendo le cusse nel modo corretto e riportando il lavorio dei muscoli ad un equilibrio dinamico tra loro diverso ma anche ricostruendo la volontà di questa persona di un equilibrio diverso dentro di sé un'accettazione anche per certe forme del mondo esterno ma anche cambiando la postura che nel frattempo si sarà alterata quindi è un lavoro di combi tra varie specializzazioni e tra vari percorsi che fanno cambiare il modo che ha quella persona di affrontare la realtà la sua via di fuga il bruxista è uno che scappa da qualche cosa e cancella le cuspidi che invece lo tengono chiuso dentro una sorta di gabbia grazie a tutti grazie a tutti